Le mascherine prima del coronavirus che conoscevamo al massimo erano quelle del carnevale o le associavamo istintivamente a carrozzieri o verniciatori. Mai e poi mai avremmo pensato di indossarle per andare dal pizzicagnolo dietro l'angolo e invece siamo diventati espertissimi di codici, sigle, filtri e tipologie. Ma come spesso avviene in questi casi a cominciare proprio dal web e poi anche dalla sovra informazione mediatica ci si incomincia a perdere nel bailame totale di pareri, esperti, tecnici e chi più ne ha più ne metta. Ed allora per non prendere a bagli ad arretta le fantasie più sfrenate della malinformazione l'unico faro guida in questo mare agitato sono le autorità scientifiche come l'OMS in questo caso che il 6 aprile scorso ha emanato un documento ufficiale proprio sul loro utilizzo. Nel frattempo che chi di dovere decida se questi presidi di protezione diventino obbligatori o no, una cosa l'abbiamo capita, entreranno sempre di più nella nostra quotidianità. L'OMS divide nel suo documento le mascherine in due categorie, mediche o chirurgiche, quelle semplici a tre strati di colore azzurro-arancio per intenderci e le mascherine di procedura, le famose FFP2 o tre o mascherine filtranti da polveri, fumi e nebbie di liquidi aerosol, quindi inalabili, dove la sigla FFP sta per filtering face piece. Quali mascherine dunque dobbiamo adoperare? Secondo l'OMS non è importante il tipo di mascherine, se si parla di prevenzione di comunità. Le chirurgiche vanno bene, a patto che, aderendo poco al viso, si faccia più attenzione alle altre norme di prevenzione, come lavarsi bene le mani e non toccarsi bocca, naso e occhi e sanificare le superfici. Chi deve indossarle? Certamente chi ha sintomi, sicuramente chi tratta con persone positive e chi è in contatto con persone in quarantena o chi ha contatti con persone che frequentano luoghi o persone esposte al rischio. E ora veniamo alla domanda dalle 100 pistole. I sani è giusto che le indossino? Allora, per l'OMS certamente sì, perché esistono anche le persone senza sintomi. Chi è nel periodo di incubazione e che comunque vale il principio della prevenzione della diffusione del contagio. Dunque, riassumendo, l'OMS dice che la mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus. Se stiamo attenti alle distanze, all'igiene personale e ai contatti, quindi va bene qualsiasi tipo di mascherina. Non dobbiamo operare nessuno a cuore aperto con il rischio di infettarci. Dobbiamo semplicemente andare al supermercato.